Se un uomo in sogno attraversasse il paradiso e gli dessero un fiore come prova di esserci stato e al risveglio si trovasse con quel fiore in mano, e allora? Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera e benvenuti o benvenute a Le Stanze di Sofia, un podcast dove in ogni stanza si trova uno spunto filosofico grazie al quale trovare un po' di meraviglia o almeno un po' di curiosità o qualche interessante sega mentale per riflettere per qualche momento. Nella scorsa puntata, e quindi nella precedente stanza, sedendoci su una sedia, siamo entrati in una vita virtuale, beh, virtualmente perfetta. Abbiamo visto però che non era così facile, e non è così facile, definire cosa sia una vita perfetta, anche perché le nostre idee di felicità e di perfezione possono cambiare con il tempo, per quanto probabilmente ognuno abbia poi i propri temi ricordenti. Ma abbiamo anche visto come possa anche essere complicato distinguere la realtà dalla virtualità e lo stato di vieglia da quello onirico, forse perché aveva ragione Prospero nella tempesta di William Shakespeare, perché siamo fatti anche noi nella stessa materia di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. Se ricordate infatti il nostro spunto precedente era proprio il sogno, e ci eravamo lasciati davanti a questo comodo letto, un gran bel posto per sognare, chiedendoci appunto che cos'è un sogno. Per farlo però dobbiamo forse prima setacciare un po' questa parola. Infatti sogno può significare varie cose. Quando si dice quell'abito è un sogno, si sta dicendo in modo poetico o carino quanto sia bello. Quando si dice che abbiamo un sogno nel cassetto, si sta parlando di una speranza o di un progetto futuro che vorremmo realizzare. Quando infine parliamo dei nostri sogni onirici e notturni, o meno, parliamo di quello che ci accade quando dormiamo, o meglio, quello che ci accade in una fase particolare del nostro sonno, la famosa fase REM. Possiamo disinteressarci per ora, perlomeno al primo significato. Ci occuperemo sicuramente poi valentemente del terzo per riflettere su questo spunto filosofico, il sogno. Il sogno onirico quindi in particolare, quello è il nostro spunto, anche se a volte le due cose possono intrecciarsi. Il sogno ad occhi chiusi, per così dire, e il sogno ad occhi aperti, la speranza. Ma andiamo per gradi. Si sogna quando si dorme. Ma perché dormiamo? Non c'è una singola risposta con totale evidenza scientifica, probabilmente, su questo argomento. Però le ipotesi prevalenti sono queste. Si dorme per ricaricare le batterie del nostro fisico, si dorme per mettere in ordine i nostri ricordi a breve termine nella nostra mente, e probabilmente anche per rafforzare il nostro sistema immunitario. E perché invece sogniamo? Anche qua c'è più di una teoria. Per Freud, per esempio, il sogno è il custodio del sonno. Ci permette di non svegliarci, perché per esempio elabora gli stimoli esterni attraverso la fantasia inconscia, e così facendo ci permette di non svegliarci di soprassalto, ma continuare a dormire, elaborando quello che ci accade all'esterno, mentre noi stiamo dormendo, facendolo entrare nel sogno e mutandolo. I sogni, infatti, per Freud, sono un appagamento camuffato dei desideri inconsci. Quindi, per Freud, nei sogni si sfoga la nostra libido, ma non si sfoga comunque del tutto, ma si autocensura, per cui esiste una parte del sogno che è manifesta, ed è bene o male quella che ricordiamo, ed una parte del sogno latente che è quella che bisognerebbe interpretare, comprendere e capire. Se per Freud, però, i sogni sono comunque collegati all'autocensura, sono collegati alla nostra libido, altri autori vedono invece il sogno come uno spazio di sperimentazione e di autoconoscenza. È il caso sia di Jung, sia di Lovecraft. Per Jung, il sogno ha la funzione di mantenere l'equilibrio psichico, quindi è un ambito un po' più ampio di quello delineato da Freud, e non solo, ci ricollega anche agli archetipi inconsci del nostro io. Quindi è una parte di noi che è meno razionale e che riconosce l'importanza dei simboli, delle immagini quotidiane, ma in un certo senso anche di tutta quella cultura inconscia che noi ci portiamo dentro. Jung, tra l'altro, non credeva alla possibilità di interpretare i sogni come contenuto latente e come contenuto manifesto, o perlomeno non ci credeva se questa possibilità era oggettiva. Per Jung è solo il sognatore può interpretare il proprio sogno, o perlomeno qualcuno che lo conosca molto bene, cioè l'interpretazione è assolutamente personale, è appunto un'occasione di conoscenza. Abbiamo iniziato la puntata parlando delle varie fasi, parlando dei vari significati del sogno, cioè il sogno come fantasma onirico e il sogno come utopia da realizzare. Ecco, proprio in questi due termini, Platone analizza la parola. E nel primo significato, quello onirico, Platone descrive il sogno come quando si scambiano per uguali, cose che non sono uguali, ma soltanto simili. I sogni, per Platone, sono immagini. E, come si sa, le immagini non sono qualcosa di molto positivo per Platone. Sono qualcosa che ci si presenta agli occhi o ai sensi, ma non necessariamente sono la realtà. Spesso i sensi ci ingannano e ci danno una conoscenza solo superficiale, quando solo la ragione, la parola e il dialogo possono portarci a una conoscenza più approfondita. Nonostante questo, per Platone non bisogna rinunciare né alle immagini né ai sogni. Bisogna però metterli alla prova, come bisogna, del resto, mettere alla prova la realtà, e quindi anche la nostra esperienza conscia e fisica, che, del resto, ancora con il mito della caverna di Platone, sappiamo potrebbe non essere vera, esattamente come possono non essere veri i sogni. Il sogno rimane però, anche per Platone, un terreno di verifica per l'uomo saggio, come il resto della sua vita. È un modo di sollecitare il suo dubbio e il suo pensiero critico. Il sogno è simile anche al teatro. Platone è effettivamente la diffidente anche nei confronti di certe rappresentazioni, come la tragedia, in quanto copia del reale, e quindi copia della copia. Ma anche lì, a teatro, ci si trova in una funzione che stimola lo spettatore a porsi delle domande, occasione di conoscenza, appunto. Platone, però, si sofferma anche sul significato del sogno come utopia da realizzare, da progettare, e quello, per Platone, è davvero l'imbattersi nel divino. Questo non è solo un sogno individuale ed egoista, ma è un sogno del filosofo e, per così dire, della ragione. È un sogno che va condiviso e punta ad essere desti. Bisogna sempre controllare la realtà, ma il sogno, l'utopia, possono fare da guida. L'esempio più classico di questo sogno è quello politico, la realizzazione della città perfetta, la repubblica. In questo caso non ci si lascia andare allo spettacolo del mondo, che sia esso immagine, sogno o teatro, ma si resta coi piedi perterga, utilizzando il sogno, ad occhi aperti, per costruirlo, il mondo. O, più prosaicamente, forse, come direbbe Brust, i sogni, ben inteso, non sono realizzabili. Lo sappiamo. Non ne faremmo, forse, senza il desiderio. E, invece, è utile farne per vederli fallire. E perché il loro fallimento ci serve all'insegnamento. O ancora, potrebbe dire Luca Doveri, Vivi per materializzare tutti i tuoi sogni. Non arrivare al giorno in cui dovrai sognare per viverli. Ma, a parte questa piccola parentesi sul il sogno della repubblica o dell'utopia e del sogno ad occhi aperti, riprendendo Freud si potrebbe dire si prega di chiudere gli occhi e tornare a sognare. E sognare Aristotele, che afferma che il sogno appartiene al sonno, ovviamente, e all'immaginazione. Aristotele, però, è meno negativo rispetto a Platone per quanto riguarda le immagini. Lui collega il sonno alla conservazione dell'animale e al processo di digestione. La temperatura che si alza, per effetto del nostro pasto, ci porta a dormire. E quando dormiamo, sogniamo, perché l'immaginazione ha un ruolo fondamentale. Infatti essa viene alterata dalla persistenza dell'immagine esterna, per Aristotele. Un po' come quando si abbassano le palpebre dopo aver visto una forte luce che poi se n'è andata. Ecco, quella luce permarrà un po' o sotto le palpebre. Allo stesso modo, per Aristotele, i ricordi del giorno rimangono nella mente del sognatore e si trasformano grazie all'immaginazione. Se vogliamo, questa è anche già una raffigurazione più simile a quella moderna, che tende più a pensare ai sogni come qualcosa di caotico, che sicuramente prende dai pensieri e dalle esperienze quotidiane del sognatore, ma non è qualcosa di sensato o perfettamente organizzato. Poi si tende a cercarlo, quel sogno. Infatti per Aristotele, nonostante il tempo in cui viveva, i sogni non sono mandati degli dèi. In modo ironico, dice anche è facile dire che non è così perché altrimenti gli dèi sceglierebbero dei destinatari migliori e magari anche persone che sono capaci di trasmettere quello che gli dèi vogliono dire. I sogni però per Aristotele possono invece, questo sì, essere dei segnali per capire se soffriamo di una qualche malattia oppure possono suggerirci delle azioni in quanto vedono meglio della veglia le cose molto piccole prima che diventino grandi perché probabilmente per Aristotele nei sogni le cose piccole sono viste sotto forma di iperbole e quindi abbiamo come un anticipo di quanto un seme sia già un albero. E in Aristotele si trova anche una metafora molto conosciuta quella del sonno come piccola morte cioè quando dormiamo abbiamo un anticipo appunto di quell'esperienza l'anima si stringe in se stessa è meno collegata al corpo per così dire e può conoscere cose che normalmente non conoscerebbe. Infatti Aristotele crede nella possibilità di prevedere qualcosa della propria vita attraverso il sogno o in un'occasione similmente particolare anche se in modo molto più vasto ossia quando siamo vicini alla morte. In quel caso la possibilità di prevedere il futuro è raccontata anche da Omero. Patroclo predice la morte di Ettore ed Ettore predice la morte di Achille quando sta morendo. C'è una sorta di assimilazione tra il sogno e quelle che ora chiamerebbero le near death experiences cioè l'esperienza di premorte ma di questo magari parleremo un'altra volta. Ora vorrei addentrarmi un po' di più nella tematica del sogno farlo con un'autrice che è Agnes Heller che ha scritto un bel libro che si chiama per l'appunto La filosofia del sogno quindi utilizzerò soprattutto questa fonte per proseguire l'indagine di questo spunto filosofico. L'autrice cerca di usare le categorie della fenomenologia e dell'ermeneutica per indagare il sogno e la questione principale sta nella differenza tra l'io onirico e l'io vigile. Seguendo anche l'idea di Maurice Blanchot la Heller scrive che colui che sogna sta dormendo ma colui che sogna non è più colui che sta dormendo. C'è quindi una distinzione fondamentale tra io onirico ed io vigile. Quello onirico appunto non sogna affatto ma percepisce, vede, ascolta, soffre, pensa, solo l'io vigile sa di sognare e lo sa quando si sveglia. Quando dormiamo e sogniamo invece è tutta esperienza ed esperienza tutta nel presente. Il sogno ha la sua ontologia, le sue regole. Ha una struttura che è diversa da quella del mondo cosciente e per così dire reale. Una sua ontologia che è difficile da definire per affermazione. Si deve andare per via di negazione. Per esempio nel sogno non c'è una regola non c'è una fisica lineare sempre uguale a se stessa non c'è neanche una biologia così precisa e non c'è morale. Nel sogno niente è strano. È un mondo individuale non intersoggettivo come ha detto prima Platone. E c'è una grossa differenza tra i sogni ad occhi chiusi e notturni rispetto ai sogni aperti. Nei sogni aperti quindi nei progetti e nelle fantasticherie non c'è questa separazione tra io vigile e io sognante. Questi possono anche racchiudere altra gente dunque possono essere collettivi realistici e poiietati al futuro. Entrambi però il sogno di veglia il sogno notturno riguardano come diceva anche Aristotele l'immaginazione. Il sogno può anche dare materiale per opere letterarie o artistiche. Ma la cosa interessante è che in questo caso non è tanto l'autore quanto il fruitore di quell'opera a guadagnare una vista del proprio inconscio. Pensate ai quadri di Dalì o agli scritti di Edgar Allan Poe o Lovecraft appunto o ai racconti di Shakespeare. Shakespeare che peraltro pensava a un'altra similitudine non solo a quella tra immagine e sogno. Un'altra teoria di Shakespeare che abbiamo già intravisto con Platone è la similitudine esistente tra sogno e teatro. Se ci pensate anche qui l'impossibile torna possibile i morti tornano in vita. Quando si va a teatro si lascia il resto del mondo fuori e si diventa una sorta di io spettatore che è diverso dal io comune. Il regista o il poeta può creare forse più mago del mago sogni collettivi. I protagonisti sono nello stesso sogno ed anche gli spettatori sono dei sogni più grandi di altri sogni. Del resto non è così stravagante il collegamento tra sogni e opere teatrali o opere letterarie. Già Borges scriveva che i sogni costituiscono il più antico e non certo il meno complesso genere letterario. Mondo della veglia mondo onirico dunque sono mondi diversi. Il punto in comune è solo l'inconscio. Abbiamo detto che per l'io onirico ogni esperienza è reale e non c'è passato ma solo presente. Una cosa singolare scrive la Heller che accade nel sogno è che lei definisce il paradosso del sonno è che c'è una certa spesa di energie psichiche e fisiche per mantenere il lobo frontale spento quando noi stiamo sognando forse perché i sogni servono a riorganizzare le memorie a breve termine del quotidiano e metterle nella memoria a lungo termine. Ci vuole quindi una certa energia per poter restare ad un più basso livello di energia. Quello che si va a spegnere è la nostra coscienza. Nel sogno quindi non siamo coscienti non siamo vigili ma prendiamo il materiale dei nostri sogni dalle nostre esperienze vigili non solo le nostre esperienze individuali ma anche le nostre esperienze culturali quello che leggiamo quello che guardiamo o come direbbe Jung dagli archetipi ma come direbbe Heidegger invece siamo gettati sia in stato di veglia sia nel sogno in un unico mondo esteso non è effettivamente un mondo diverso o meglio non è un universo diverso sono mondi con regole diverse ma il materiale è il medesimo il fatto che il materiale sia quello però non significa che non si possono creare nuove connessioni sarebbe come dire che la musica di Johnny Cash o la musica medievale o quella classica o quella dei Metallica sia sempre la stessa il materiale è quello ma le combinazioni sono infinite e nel sogno probabilmente ci sono delle combinazioni che non possono esistere nella vita conscia e reale una regola che per esempio esiste nel mondo reale è che ci sia una connessione e un collegamento tra contesto ed emozione devo affrontare un esame e posso avere ansia o paura mi stanno per uccidere e non sono troppo contento ma nel sogno invece potrei perfino essere felice o potrei aspettare un esame con sentimenti che assolutamente non avrei se fossi sveglio le emozioni sono qualcosa di non causale non logico all'interno del sogno elemento caratteristico dell'ontologia della struttura del sogno per la Heller è la fusione la fusione può venire in vari modi all'interno del sogno può essere per esempio una fusione di due elementi quindi di due tracce mnestiche per esempio due persone sono fuse insieme è una cosa che può accadere nel sogno e senza contraddizione perché del resto nel sogno non c'è un vero e proprio principio di contraddizione aristotelico A può essere non A nello stesso tempo un altro tipo di fusione o forse di alterazione è quella che avviene tra conoscenza e aspetto per esempio una persona che incontro nel sogno potrebbe avere l'aspetto di Gandalf ma dentro di me so che non è Gandalf quello è mio fratello oppure nel sogno può accadere una metamorfosi fisica banalmente sono su un camper e quel camper si trasforma in un ragazzo e poi in un'astronave nel sogno anche il tempo e lo spazio hanno un valore relativo per esempio posso teletrasportarmi oppure nel sogno una cosa e due posso incontrare un personaggio che è contemporaneamente giovane e vecchio le famose unità narrative di Aristotele lo stesso tempo lo stesso spazio non hanno senso nel sogno il sogno è in media res il tempo scorge in maniera diversa è soggettivo e mai intersoggettivo è impossibile darsi un appuntamento nel sogno il sogno è esperienza concentrata non è tempo oggettivo ma non è neanche il tempo kairos dell'illuminazione l'autrice infatti si chiede per esempio se sia possibile annoiarsi nei sogni o il tempo talmente concentrato da evitare questa possibilità tant'è che può capitare che nei sogni ci sembra di aver dormito solo qualche ora ma il sogno ci appare come incredibilmente più lungo come se fosse durato giorni alle volte i sogni appunto sembrano davvero voler uccidere Aristotele qui non c'è logica non c'è principio di contraddizione che valga e non c'è neanche relazione tra sostanze accidenti il soggetto può cambiare esattamente come si cambia un vestito o un cappello la causalità è solo un ricordo eppure senza sogni sia quelli ad occhi aperti sia quelli ad occhi chiusi la vita sarebbe perlomeno un po' più valida un'altra cosa che potremmo chiederci è possiamo volere un sogno ci si può sforzare nel voler sognare qualcosa di specifico ma sicuramente il risultato non è affatto garantito anche perché altrimenti saremmo per certi aspetti responsabili dei sogni che facciamo e se sogniamo qualche peccatuccio o qualcosa di ben più grave non potremmo più cavarcela dicendo stiamo solo sognando e ci sono casi anche estremi di questo genere come nel caso di Brian Thomas un cittadino del Galles che nel 2009 è stato assolto dall'omicidio della moglie perché è compiuto durante un momento di sonnamburismo senza arrivare a un caso così particolare e declatante effettivamente perlomeno di quello che sogniamo noi non siamo non siamo responsabili di quello che sogniamo perlomeno non in un senso di responsabilità diretta non c'è una vera allelazione causale tra la nostra decisione la nostra azione e ciò che ne risulta però dice Nietzsche nulla ci appartiene in maniera tanto assoluta quanto i sogni siamo cioè responsabili dei nostri sogni in maniera indiretta ossia per la vita che facciamo per il materiale che vi portiamo non c'è nulla effettivamente di nostro quanto lo sono i sogni ma per quello che possono dirci per quello che ci possiamo trovare per quello che possono raccontarci di noi non perché siamo noi a sceglierli i sogni dipendono per esempio dall'epoca che viviamo dal luogo dove stiamo un tempo magari la gente sognava di parlare con Dio o con gli angeli ora è sicuramente meno diffuso Freud è chi per lui ha sicuramente democratizzato i sogni non lo ricevono più solo gli stregoni o i capi villaggio tutti possono voler interpretare i loro sogni ma per quanto i materiali siano diversi il volare è diventato il volare su un aereo o l'intervento dell'oracolo magari ora è semplicemente quello del profeta in televisione il materiale è differente ma il linguaggio è simile le regole del sogno che sono soprattutto descritte dalla mancanza delle regole esistenti nella veglia sono simili e i sogni continueranno in un certo senso a influenzare la nostra vita reale un po' come la nostra vita reale è cosciente influenza i nostri sogni e poi che cosa è reale con questo concludo le riflessioni sullo spunto di oggi il sogno spero siano state interessanti e se così non fosse mi appellerò a Puck e al suo sogno di una notte di mezza estate dicendo che se noi ombre vi abbiamo scontentato pensate allora e tutto è accomodato che avete qui soltanto sonnecchiato mentre queste visioni sono apparse ed il tema ozioso e vano che non più di un sogno è stato signori vi prego non venga abiasimato e lasciamo il nostro sogno ai sogni e molto velocemente invece presentiamo lo spunto nudo e crudo di oggi su cui poi rifletteremo nella prossima stanza dunque nella prossima puntata eccolo un semplice taccuino lasciato sopra un tavolo è aperto e le sue pagine sono scritte sapete cosa c'è scritto sulla prima pagina che in questo momento mentre sono seduto su una vecchia poltrona a parlare da solo al microfono con una tazza calda dimata in mano e sento la luce che entra dalla finestra ecco senza sapere bene il perché e senza per ora neanche volerlo indagare mi accorgo di sentirmi felice e ogni tanto è giusto notarselo perché come dice Vonnegut quando siete felici fateci caso infatti ci rendiamo conto fin troppo raramente della nostra felicità quando per una volta le cose vanno bene e tutto fila liscio ci ricorda Vonnegut fermatevi un attimo per favore e dite a voce alta cosa c'è il più bello di questo se questo non è carino se questo non è bello allora che cosa lo è ecco chiediamocelo più spesso e proviamo un po' anche a chiederci quando è che siamo felici o anche più semplicemente come possiamo fare per notarlo più spesso voi cominciate a riflettere intanto se volete esplorate questa stanza e sfogliate quel tacquino ne avete facoltà ci si rivede alla prossima puntata dunque alla prossima stanza buongiorno buonasera o buonanotte non 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 Forever e buonanotte